Ben ritornati boys and girls qui su Lion Lab, oggi con un video con chat GTP, che cos'è chat GTP? Quella roba del bot, intelligenza artificiale super intelligente che gli puoi chiedere qualsiasi cosa, tipo di progettarti una madonna spaziale, insomma una roba incredibile. Noi cosa lo useremo? Ve lo dico subito io, oggi noi lo useremo per far fare dei dialoghi imparazzanti, 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 tra i miei amici e iniziamo subito. Allora, vediamo di che cos'è capace, sondiamo il territorio, d'accordo? Vediamo cosa gli possiamo far fare. Scrivi un dialogo tra Strecatto in calore e Alex Naus che non gli piace Strecatto. Direi che va bene, ok? Tra Stregatto, vabbè, in calore e Stre Naus, vabbè, Alex Naus ci sta. L'importante è che lo capiamo noi, ok? Adesso lo sta generando, vedete che sta lavorando un pochino duramente, ecco qua. Stregatto, miagola fortemente. Alex, non capisci? Ho bisogno di un po' di affetto, Alex. Sospira, ah Stregatto, per l'ennesima volta, non mi piacciono i calori, soprattutto quando sono in calore. Stregatto, continuo a miagolare. Ma Alex, Stregatto, non posso cambiare i miei sentimenti, so che è difficile per te ora. Ma devi capire. Si calma un po', meno male, era una situazione delicata, eh, questa. Lo so, Alex, è solo difficile, eh. Sì, lo capisco, ma dobbiamo entrambi cercare di superare questa situazione. Nel modo migliore. Ah, è stato bello. Ma può fare molto di meglio, eh, può fare molto di meglio. Vediamo cos'altro possiamo fargli fare. Allora, scrivi una breve storia d'amore tra Cicotubi e Stregatto. Vabbè, Cicotubi, Cicotubi deve essere un idraulico. È stregato, è sempre stregato, è stregato dall'amore di Cicotubi. Cicotubi, Cicotubi era un umile idraulico. Con un cuore gentile, meno male, un giorno mentre stava lavorando una riparazione in ciampo su un vecchio libro polveroso, senza pensare alcune volte lo prese e lo portò a casa, ma è il libro dello stregatto. Oh, un incantesimo si sprigionò e apparve stregatto. Un infascinante stregone. Ah! Ah! È uno stregone. Eh, beh, pensate. Dal tratto della sua bellezza e dal suo sorriso travolgente, Cicotubi rimase incantato, è stregato. A sua volta rimase affascinato dall'animo di Cicotubi e la sua passione per l'idraulica. Sì, però sta durando troppo! Ho detto breve! Basta! Si è preso bene, non finiva più! Adesso lo devo sgridare, perché non è così. Ho detto una storia breve, breve, breve! Riscrivila, ma breve! Oh! Eh, bisogna essere decisi con questa intelligenza artificiale, eh! Ah, no, non si scusa neanche! Non si scusa neanche! Ah, vabbè, però questa volta è breve. Cicotubi l'idraulico, trovò un vecchio libro incantato, da esso apparve stregato, non stregone affascinanze. Tra loro l'acqua è un amore magico e sincero, insieme crearono una storia d'amore eterna. Vabbè, così è anche troppo breve, però, cioè... Vabbè, anche io non mi basta mai, insomma, vabbè. Proviamo un'altra volta, eh, ragazzi, allora... Eh, dico io, eh. Scrivi un dialogo tra Anna Ubriaca e il dottore Ubriaco. Questo. Anna Ubriaca e il dottore Ubriaco. Vediamo un po' che cosa succederà in questo duo pazzesco, in questo dialogo. Anna Ubriaca. Oh, dottore, mi sento così strana stasera, mi sembra di fluttuare nel vuoto. Ah, anche io! Gli effetti dell'alcol mi hanno preso di sorpresa. Dottore, cosa sta succedendo? Sento tutto, sembra nulla abbia senso. Capisco come ti senti, Anna, l'alcol è la nostra... Tutto che ci ubriaca. Ma perché ho fatto questo? Mi sento così stupida. Non giudicarti troppo, Anna. Tutti commettiamo errori. Cosa dovrei fare adesso? Ho paura di cosa potrebbe succedere. Prima di tutto cerca di... Basta! Ming, ma non è possibile, ma non finisce mai. Ho capito che sei intelligente, però scrivi troppo, fratello. È il dono della sintesi, eh. Proviamo di nuovo, dai, questa volta però andiamoci seriamente, ok? Scrivi un dialogo tra Alex Nauts con la panza, molto grande, e Stregatto senza il sedere. Oh, questo è interessante, eh. Alex Nauts con molta panza contro Stregatto senza il sedere. Sembra una specie di quei ciocchi dove si combatte. Fatemi sapere se volete vedere altri video così, perché mi sto prendendo bene. Magari mi suggerite voi che cosa possiamo scrivere. Ciao panza molto grande, come stai senza il sedere? Ah, Alex, sono un po' sconcertato dalla mia situazione, ma sto cercando di fare del mio meglio. E tu? Sto bene, grazie. Mi chiedevo come hai fatto a perdere il sedere. Ah, sono stato vittima di un incantesimo. No, che mi ha privato del mio sedere. Non posso sedermi o fare molte cose. È davvero frustrante. Marca miseria, eh. Sì, però sta a scrivere di nuovo un quintale, eh. Al momento sto cercando un modo per l'incantesimo di recuperare il mio sedere. Se hai qualche idea o conosci qualcuno, sarei molto grato. Ok, ho capito, ragazzi. Vuole scrivere troppo, gli dobbiamo mettere qualcosa, oppure non può scrivere così tanto. Allora, ce l'ho io, ragazzi. Attenzione. Scrivi un dialogo tra stregatto con il pisellino incastrato nel termosifone e Alex Nauz con le pinze che cerca di toglierlo. Giustamente si aiutano tra di loro, no? Capita che, magari, va a finire il pisellino incastrato nel termosifone, dovrebbe, però. Oh no, il mio povero pisellino è rimasto incastrato nel termosifone. Non preoccuparti, sono qui per aiutarti, ho delle pinze speciali. Oh Cristo, che potrebbero aiutarti in questa situazione, vediamo se riesco a toglierlo. Grazie mille Alex, sono davvero disperato, non so come sia potuto succedere. Capita a tutti di fare errore, è sì, è normale. Ora vediamo, provo ad afferrare con le pinze il pisellino e tirare delicatamente. Speriamo che funzioni, mi raccomando, cerca di non danneggiare il termosifone. Cercherò di fare attenzione, ecco, ci sono quasi, ora tiro, sembra che si stia muovendo. Fantastico, sta diventando imbarazzante. Sei un vero salvatore Alex, grazie infinite. Di nulla, ora il tuo pisellino è libero dal termosifone, ricorda di stare più attento in futuro. Sicuramente, ho imparato la lezione, grazie Alex. Buona fortuna, che schifo. Un'altra, ok, allora, sono stato una sera a giocare con sta roba, eh ragazzi, quindi è normale che sia bello. Scrivi una storia molto breve dove Alex Nauts e Strecatto si danno un bra... Ho sbagliato, eh no, tu, eh? Ho sbagliato a dettare, zitto, mannaggia, non sai capire. Scrivi una storia molto breve tra Alex Nauts e Strecatto che si danno un bacio appassionato sull'ombelico. A posto. Come non puoi soddisfare questa richiesta? Come è possibile? Perché? Cosa c'è che non va? È volgare? Non mi pare è volgare, l'ombelico? Il bacio appassionato è volgare. Mettiamo quell'altro che chat GTPT4 è più volgare di quell'altro, quindi scrive le porcate. Adesso vediamo un po' che cosa succede, eh? Quindi, storia molto breve, bacio appassionato sull'ombelico. Sono sicuro che sapranno come fare a darselo. Beh? Ui, è pesante questa storia? Breve, ho detto, è molto breve. C'era una volta Alex, un giovane e coraggioso avventuriero con un'amina ma curiosa. Durante una delle sue spedizioni incontrò Naus. Ma è tutt'uno Alex Naus. No, un giorno... Ma no, no! Ma no, no! Non un bacio tra Alex e Naus! Alex Naus! Ma guarda, bisogna farsele da sole. Scrivi una storia. Una storia. Storia. Mh, d'amore. Molto breve. Tra Alex Naus. Alex Naus. È strecato. Che si baciano, 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 baciano l'ombelico. Compassione. Ah, sì, non vedo l'ora di leggere questa meraviglia. Vai, scrivi, mi raccomando, una roba porcaccia che ci fa ridere. Forza. Vai, non scrivere 3.000 parole, eh. Breve. Molto breve. Molto breve. Chat GTPP. Ok? Però scrivi. Ehi, ci sta pensando, ti sta elaborando. Questa deve essere impegnativa, eh. C'era una volta in una terra lontana un giovane ha chiamato Alex Naus. Era conosciuto per le sue avventure spaziali. Ma, gesta leggendaria era in trepida natura. Mi sa che era un altro, perché quello mio non è così. Un giorno, durante una missione, incontrò una creatura chiamata Strecatto, che era tanto strana... Eh, vero. E faceva incantevole. Ma non credo, vabbè. Strecatto, sebbene fosse un po' timido, era affascinato alle storie e avventure di Alex Naus. Cominciarono a passare tempo insieme a condividere storie irrisate. E si stavano innamorando l'uno dell'altro. Uh, 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 uh. Un giorno, mentre erano seduti sotto le stelle, Alex Naus prese coraggio e disse Ho qualcosa per te. Si chinò e baciò delicatamente l'ombelico di Strecatto. Strecatto rimase sospeso, ma poi rise. E fece lo stesso con Alex Naus. Questo bacio all'ombelico divenne il loro gesto speciale. Un simbolo della loro passione e dell'amore che condividevano. Nonostante le loro differenze, Alex Naus e Strecatto si amavano. Il loro amore era forte come le stelle che brillavano nel cielo. Oh, che meraviglia. E così la loro storia d'amore continua in qualche parte dell'universo. Tra le stelle e i pianeti. Con il dolce bacio all'ombelico a ricordare la loro passione. Che meraviglia. Che romanticismo. Che bellezza. Oh, è stata meravigliosa. Voglio un'altra, però, un po' più porcosa questa qui. Eh, ragazzi? Impegniamoci un pochino di più, eh? Allora, fatemi pensare. Secondo me ci deve essere sempre il pisellino incastrato da qualche parte. O qualcosa che si è infilato per sbaglio nel sedere. Sì, mi piace questa idea. Ok. Scrivi una breve storia. No, 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 ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché con le brevi storie non capisci la parola breve. Le scrivi di tre chilometri. Scrivi un dialogo tra Strecatto. Che si è infilato per errore una melanzana nelle chiappe. E il dottore. Eh, questo è un problema, eh? Per errore si è seduto. C'era una melanzana. È un'emergenza. Devi andare dal dottore e sentire. Ah! Mi sono infilato per errore una... Eh, beh, giustamente. Ma una melanzana nelle chiappe mi fa molto... Eh, ci credo. Dottore. Calma, calma. Mi dica, com'è successo? Ero intento a fare un incantesimo. Quando distratto ho scambiato la melanzana con un oggetto magico. Ora sono in preda al dolore. Capisco. Dobbiamo agire rapidamente. Prima di tutto cerchiamo di estrarre la melanzana. Sarà necessario un intervento che... Oh no. Oh mio Dio. Purtroppo no. La melanzana è intrappolata e non può essere rimossa. Oh cazzo. Va bene. Ma dottore, riuscirò a tornare alla normalità. Eh, non si preoccupi. Farò di... È diventato drammatico. Grazie dottore. Spero di dimenticare questa strana avventura con la melanzana nelle chiappe. Ma è... Ma è drammatico, capire? Dove essere una cosa così leggerina. Forse troppo... Proviamo un'altra cosa. Ok, allora. Scrivi un dialogo tra Alex Nauz e la zanzara che gli ha punto il pisellino. Questo è interessante. Eh, magari la zanzara che gli ha punto il pisellino. Può essere che sia... Oh no! Una zanzara mi ha punto sul pisellino. Fatemelo male. Zanzara, mi dispiace. Ma ho bisogno del mio pazzo di sangue. Non prendertela. Ma proprio lì non potevi pungere un'altra parte del corpo. Mi dispiace. Ma la mia natura è... Non posso segliere dove pungere. Eh, almeno posso fare qualcosa. All'allegare il prurito. Puoi provare a piccare una crema. Dai, ma che palio! La crema! Grazie per il consiglio. No, questa è Alex Nauz. Grazie per il consiglio. Spero aiuti. Non ti vedi che? Buona quantitione. E ricorda, non prendertela con me. Sono solo una zanzara. Che pizzo, eh? Si rovina sempre alla fine. Cioè, parte bene, no? Poi a un certo punto si pisce addosso e si distrae. Ultima che facciamo, eh ragazzi? Ultima. Scrivi un breve dialogo tra Chico Tobi e il suo cavallo. Basta. Dai, questa può essere interessante se non altro, eh? Dai! Ehi, vecchio amico, come stai? Ah, sono pieno di energia. E tu, Chico? Ah, sono felice di sentirti così entusiasta. Ma che cringe. Vabbè, diciamo che era meglio se ci fermavamo prima di questa, vai. Vabbè, che dite? Ha superato il fit check, questo chat GPT? Secondo me non tanto. Però ci si accontentiamo, dai. Grazie di aver guardato questo video. Ci salutiamo qui. Fatevi sapere se ne volete vedere altri con chat GPT. E Lion out!